Caro energia, caro bollette, emergenza climatica. Tre tematiche, tre criticità strettamente correlate che oggi Confcommercio Marche Nord ha affrontato attraverso un convegno tenutosi qui nella sede pesarese dell'associazione di categoria, un convegno che viene affrontato attraverso una chiave di lettura, quella delle comunità energetiche. Una realtà, un'opportunità, una possibilità di sviluppo futuro. Questo il convegno che ha visto la presenza di comuni, di esponenti della regione Marche, di associazioni di categoria, di mondo dell'impresa interessate da questo argomento che può essere un tentativo di contrastare queste criticità che stanno attanagliando l'inverno attuale. Abbiamo anche deciso di fare una riflessione, questo convegno sulle comunità energetiche, perché sono uno strumento utile a consentire risparmi sulle bollette energetiche coinvolgendo la regione, coinvolgendo gli enti locali e questo è molto importante perché la comunità energetica è uno strumento molto utile, di fatto è un'associazione tra cittadini, pubblica amministrazione, imprese commerciali e piccole e medie imprese per utilizzare le energie rinnovabili, ottenere quindi dei risparmi sulla bolletta energetica e addirittura anche con gli incentivi del GSE avere la possibilità di vendere l'energia in surplus alle autorità. Mi piace però anche sottolineare il fatto che la parola comunità a noi piace. La comunità è un insieme di persone che vivono insieme, che condividono certi ideali, certe idee, certi progetti, certi obiettivi, quindi la comunità energetica ha molti benefici, intanto un beneficio di carattere sociale, il fatto di abituare la gente a lavorare insieme, a ragionare insieme, perché devi mettere insieme tanti cittadini, tante botteghe, tante piccole imprese per raggiungere un obiettivo. Poi quindi un vantaggio di natura economica, perché come abbiamo detto può consentire il risparmio anche con la vendita del surplus di energia e poi c'è un vantaggio ambientale, perché qui si utilizza energia da fonti rinnovabili, quindi non dal fossile e quindi con una diminuzione delle emissioni di CO2 e anche di dispersione lungo la rete. Al tavolo dei relatori, oltre ad Amerigo Varotti, anche esponenti della regione Marche e dei comuni, due realtà amministrative che possono fare tanto in questo senso, come ha ricordato l'assessore alle infrastrutture, Francesco Baldelli. Un'iniziativa che guarda al futuro, ma che sottolinea anche l'azione della pubblica amministrazione, in questo caso della regione Marche, che nella sua visione infrastrutturale di lavori pubblici, così come dello sviluppo energetico che dovrà riguardare questo territorio, pone al centro della sua azione quattro principi cardine. Innovazione, sostenibilità, intermodalità e sicurezza. Innovazione e sostenibilità vanno di pari passo. Innovazione perché dobbiamo guardare al futuro, sostenibilità perché dobbiamo avere sostenibilità sociale, ambientale ed economica e finanziaria. Questo lo facciamo anche con le tecnologie che applichiamo all'energia. è una possibilità nella quale la regione Marche crede molto, è stata infatti varata una legge regionale specifica per incentivare e per aiutare alla costituzione di queste comunità. Quindi la regione ci crede molto, ci crede molto nei prossimi finanziamenti europei che sono ormai in corsa, sono destinati parecchi milioni per l'energia in generale ma anche in particolare per le comunità energetiche. L'aspetto che noi troviamo molto positivo è un aspetto di ricaduta sociale, degli investimenti che verranno fatti nella produzione energetica da fonte rinnovabile che, come ben sapete, in passato erano invece investimenti fatti per un profitto diretto delle imprese che investivano in questo campo. L'altro aspetto è anche quello della maggiore accettazione. Noi nelle Marche abbiamo vissuto delle fasi in cui le installazioni di produzione energetica a fonti rinnovabili, come penso al biogas, penso all'eolico, hanno avuto grosso contrasto e grossi conflitti perché non erano ben accetti. Questa tematica è molto importante per i comuni perché questi possono essere i protagonisti della transizione energetica che passa attraverso le comunità energetiche rinnovabili. Queste comunità energetiche sono previste dall'Unione Europea con la direttiva Red 2, e vengono recepite solo ultimamente dai comuni che però trovano delle difficoltà nell'attuazione. Ancora manca la risoluzione di problematiche tecniche e soprattutto manca una formazione e un'istruzione di quello che è l'apparato politico che poi dovrebbe dare il via a tutto il processo. I comuni sono probabilmente il soggetto più adatto sia ad incentivare che a creare e gestire una comunità energetica rinnovabile.